Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, che ruota attorno all'identità e al modo in cui il trauma e le esperienze possano modellare e stravolgere una persona. Il romanzo invia un messaggio profondo, che il passato, se non affrontato, può riemergere e colpire in modi inaspettati. E che solo affrontandolo è possibile comprendere veramente chi siamo e chi sono le persone che amiamo. La trama del libro Il cammino della scrittrice Ania Nievierra, pubblicato dalla casa editrice Neripozza, è la seguente. Sai, ce lo portiamo sempre appresso, il passato, anche quando ce lo siamo ormai lasciato alle spalle. E quanto più è oscuro, tanto più pesante è il fardello. Il mio, a un tratto mi si è ripresentato di fronte e mi ha riportato in Bosnia, in quella selva. L'ho sentito gridare. Il passato è un labirinto di pensieri cupi, che cercano vendetta. Lotte Bonnet ha 44 anni, due figli, un marito amorevole con cui è sposata da oltre due decenni e una carriera ben avviata come pasticcera a Viglen, nei Paesi Bassi, dove vive. Suo marito, Emil Jukic, sopravvissuto a una diagnosi che, sei anni prima, gli lasciava ben poche speranze. Per festeggiare la vita riconquistata ha deciso di intraprendere da solo il cammino di Santiago. Ma, all'improvviso, la notizia, mentre si trovava in una regione isolata del massiccio centrale, in Francia, Emil si è suicidato. Lotte è distrutta. Non ha senso, compiere un simile viaggio per celebrare la vita e poi porvi fine in modo tanto violento. Emil, a quanto pare, si è trafitto la giugolare con un coltello. Eppure non la lascia supporre che le cose siano andate diversamente. E quando lotte, per disperdere le ceneri, si reca in Bosnia e Herzegovina, nel paese natale del marito, scopre un'altra atroce verità, l'uomo affettuoso, forte. Che la sostenuta in tante prove dell'esistenza non è mai stato chi le ha detto di essere. Il vero Emil Jukic è morto nel 1995, trucidato in un'azione della milizia serbo-bosniaca. Chi era dunque Emil? Perché ha mentito? Quella zona d'Europa così insanguinata ha forse lasciato tracce anche su di lui, tanto da spingerlo a nascondere la propria identità? Determinata a scoprirlo, Lotte intraprende a sua volta il cammino. I suoi passi ricalcheranno gli stessi del marito, dormirà negli stessi letti, mangerà nelle stesse locande. Senza sapere che qualcuno non la perde di vista un istante. Qualcuno che ha un obiettivo solo, mettere a tacere il passato, a ogni costo. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterari e iscriviti al canale.